Ciao a tutti ragazzi da TFG on demand, guardate Rinnegan è contentissimo, guarda che c'è il tuo tirannosauro che impara fermo lì, è obbiettente, obbiettente, stai fermo qua, mi sta fermo lì, è obbiettentissimo, dove vai, dove lo porti, no Rinnegan, non andare via, dobbiamo fare altre due cose, adesso lo metto qua, ah, altra cosa, prima tutto, vedete con la targhetta, eravamo in decine se chiamarlo Rexy o, come è che l'avevi chiamato, Trixie, ma in realtà ho letto un commento, che ci ha fatto troppo ridere, che ci ha fatto troppo ridere ragazzi, quindi dobbiamo assolutamente chiamarlo così, non vi dico niente, perché adesso vedrete un po' come lo, ah, prima di tutto facciamo una cosa, qui, per sbaglio, mentre scavavamo in miniera per trovare altri fossili, avevo messo, avevo già l'uovo in inventario, e l'ho messo qua, e ho sbagliato, dove un po' sparisce da solo, perché c'è scritto che questo uovo non può aprirsi in, qui insomma, nella sua pietra, comunque tranquilli, perché era un pazzi faccio all'uocosauro e ce li ho qui. E ne abbiamo già un altro. Vedete, è scritto, guardate, this egg cannot spawn here, comunque abbiamo oggi il ceratossauro e il pacifacalacosauro, però prima vado nell'incudine, a mettere la targhetta, guardate come chiamo per tirannosauro, guardate, lo chiamiamo, eh, guardate, te lo dico, tirannosauro, saurosas. La capiremo io, tu e sua nonna, però. No, dai ragazzi, l'avete capito perché osas, se l'avete capito, ragazzi, scrivetemi un commento. Esatto, scrivete un commento se avete capito perché l'abbiamo chiamato tirannosauro osas, e l'altro, un altro dinosauro potremmo chiamarlo, e ne tu e non me li è, o mi mubi osas. Esatto, comunque vado a mettergli la targhetta, eh, aspetta, tac, messa, ok, vediamo quella dinopedia adesso, tirannosauro osas, perfetto, ok, questo commento non potevamo, eh, ignorarlo. Esatto, adesso, eh, quindi, quindi, solo perché abbiamo letto quel commento. Ecco, perché avevo detto che noi non leggiamo i commenti, quando invece non è vero, li leggiamo sempre. Quindi l'hai cizzata, eh. Prima di tutto però, dobbiamo fare, siccome ci serve per cavalcare i carnivori la Scarab Gem, e la Scarab Gem si trova scavando col piccone e incantata con Archeologia 3, dobbiamo necessariamente fare il tavolo di incantamento potenziato, quindi adesso rompo questo perché mi serve. Dobbiamo farsi intanto un libro con la penna. Con patate. Quindi mi serve, con patate, inchiostro, ok, sacca di inchiostro, piuma e un libro. Ok, ne ho 12, va bene. Allora, per te che lo metto qua intanto, eh. Tec, allora non mi ricordo qua esattamente, ok, perna di inchiostro, ok, perfetto. Poi mi serve l'oro, non mi ricordo più ragazzi, vedo un attimo. Ma sì, l'oro, l'incenso e la mira. Ah, ossidiano, oro, la perla Omega, l'occhio Omega, scusate, e l'oro, ma va bene, ora la perla tutto, eh. Allora, mettiamo prima la verga di Vampo che mi dà la polvere di Vampo. Posso anche sprecarle... Nooo. No, ne faccio qua, ne facciamo così, facciamo così. Eh, sì, passiamo gli uomini. No, perché ti spiego, dopo ti faccio un'altra cosa. Occhio Omega ne faccio due subito. Ah, posso farne più di uno? No, ok, perfetto, quattro, ok. E adesso mettiamo, ora non mi ricordo più, u, ok, punto di domanda. Mettiamo questo, l'ossidiana, merda, l'ossidiana qua e qua. Oro, tec, tec, tec. Il lapiuma e il... cosa manca? L'occhio Omega, perfetto. Perché, vi spiego, adesso con questi oggetti, ragazzi, guardate, si può anche fare questo. Ed è un potenziamento del tavolo di incantamento. Adesso lo costruiamo e proviamo a usarlo. Anzi, prima vado a mettere un attimo il tavolo di incantamento lì della libreria. Così con questo possiamo fare sicuramente il piccone con archeologia 3. Per questo giusto, ok, perfetto. Siamo pronti? Se aspetta un attimo che vado a fare il potenziamento. È vero, possiamo già fare il potenziamento nella tavola di incantamento potenziata. Esatto, la tavola di incantamento potenziata, potenziata due volte. Vedete, praticamente tu fai così Rinnegan e hai la tavola di incantamento potenziata. Cioè, scusa, hai un affare per aumentare la tavola di incantamento. Però possiamo farla due... Sizialmente non so quanto la... No, vediamo un attimo come funziona. Sì, perché sinceramente non so, ragazzi. Quindi c'è scritto, usa sulla tavola di incantamento mentre sei accovacciato, tipo. Quindi devo schiacciare in teoria shift e poi col tasto destro schiacciare sulla tavola di incantamento. Vediamo un po'. Ok, l'ho fatta. Fatta. Quindi? Massimo l'incantamento a livello 70. Come prima? Eh, boh, non so, devo provare a fare un'altra? Lo faccio un'altra, ragazzi. Tanto ho il materiale. Eh, merda. Ho cancellato tutto. Ok, la rimetto là. Non è che bisogna mettere più librerie, forse? Di credo. Ok, aspetta, tasto destro, vedi che mi sparisce. Cioè, ce l'ho messa, però, boh, ho bisogno mettere più... Allora, abbiamo librerie. Facciamo il tocco di velluto sull'ascia? Così però... Aspetta, per te che prendo un'ascia. Abbiamo già librerie, non sai di romperle, ho preso dentro la cassa. Allora, che cazzo ne sapevo? Allora, mettile, mettile... Ma le metti sopra o un po' per il pavimento? No, mettile sopra. Non so. Non so. Mettile sopra, che cazzo ne so? Così, vediamo. No, è sempre a livello 70, mi dice. Aspetta. Tocco di velluto, un'efficienza, posso mettere l'efficienza... Ma, a parte che lascio in un livello di esperienza, quindi sì. Comunque, dobbiamo mettere più che altro l'archeologia, dobbiamo mettere. Che adesso ce l'ho solo uno, dovrei fare un po' di livello di esperienza, cazzo. Allora, proviamo anche sotto. Mettila per tutto. Eh, ma proviamo ragazzi, sinceramente non so, perché guardate, c'è scritto, eh. Enchantment A, vedete questo? Usa sul tavolo di incantamento per fargli l'upgrade. Per potenziarlo. Oddio. Cosa? Non è che l'ho messo nel tavolo di incantamento normale? Ma no, ma non credo. Ma figurati, può parte di una mod. Forse è per... Non so, sempre c'è scritto il tavolo di incantamento, prova a mettere la libreria adesso, prova. Ok, metti dappertutto. Quelli che hai, ovviamente. Amici, è sempre a livello 70, però, eh. Ok, oh, oh, ti dico. O che dobbiamo avere più livelli di esperienza noi, perché evidentemente qua non funzionano, se no. Ma... Vabbè, allora, il tavolo di incantamento pontizzato ce l'abbiamo. Se tu puoi fare... Tu sei a livello... Eh, boh, tu sei a livello 26, fatti il coso con l'archeologia. Ok, adesso lo faccio. Fatti il piccone con l'archeologia 3, efficienza magari. Dammi che lo faccio a vedere. Praticamente questo cos'ha? Efficienza 1, archeologia 3. Buon, perfetto. Quindi con questo adesso, buon, tienilo turine, che anche tu sei tu come qua a scavare fossi. Con quella è la più possibilità... Fossi. Buon, va a scavare fossi. Va a scavare fosse. Comunque adesso andiamo a mettere gli altri due quelli che abbiamo qui. Allora, uno è un erbivolo e uno è un carnivoro. Vi faccio vedere cosa abbiamo fatto nel coso, nel recinto dei raptor. Vieni. In pratica, vedete qua c'è il recinto del Velociraptor. Di qua invece c'è il recinto del Ceratosauro. Quello che andremo a mettere adesso, ovviamente. Vedete che adesso in questo recinto andiamo a mettere il Ceratosauro. Oh, bravo, vi mettono due torce. Mettine uno anche qua, vicino all'uovo, così si scalda l'uovo. Ok, ok, perfetto, vediamo un po'. Perfetto. Col, 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 col. Perfetto. Sì, ma guarda quanto sei stupido. Perché? Ma qui arriva il dinosauro. Chi? Arriva l'altro carnivoro, toc. Ma c'è, lo facciamo il recinto. Ma guarda, nemmeno anche il Ceratosauro. Ho capito, ma ti ricordo che il primo raptor è stato mangiato da quell'altro stronzone. Boh, ma è di là l'allosauro. Ah, a proposito, fermi tutti. L'allosauro, posso volare adesso con questa armatura? Mi dimentico ogni tanto che posso, perché io so volare. Perché io so volare. Vedete qua l'allosauro, finalmente sono passati dieci giorni ed è cresciuto. Possiamo quindi cavalcarlo, però tu sei per la Scarab Jam. È per quello che prima abbiamo fatto il tavolo di incantamento per avere l'Arcologia 3 sul piccone. Quindi, prossima volta, se abbiamo la Scarab Jam, dobbiamo andare a provare... E funziona come il Trennosauro, devi picchiarlo fin quando rimane con poca vita e si addormenta. Poi gli dai la Scarab Jam e diventa tuo. Poi con ovviamente la frusta lo puoi frustare e cavalcare. Perfetto, il Ceratosauro, adesso vediamo un po' quando si schiude. Vediamo un po' che rimane l'è. Dopo andiamo lì dagli erbivori e vediamo il Pacifiacalacosauro, quello con la testugina, quello che dà testate. e lo mettiamo alla degli erbivori. Allora non saranno recito, tanto gli puoi dire subito con la stecca di legno di star fermo. Sono un coglione. Sono un coglione, rinnega. L'ho notato. Ragazzi... Hai due volte... Dillo, dillo. Ho sbagliato. A sto punto dillo. Due volte che sbagliate. A sto punto lo dici? Non voglio imparci fare qualcosa, Auro. Il punto è questo, ragazzi, che ce l'avevo nell'inventario. Ero qua, ero qua, ragazzi, che stavo aspettando che dato il video lo tagliamo, ovviamente per aspettare che schiuda. E per sbaglio, non so perché, mi ero schiacciato il testo destro, convinto di avere la bistecca in mano perché dovevo mangiare. E niente, adesso è un problema perché lascia prima questo. Sì, siamo a tre uova sbagliate. Vediamo. Siamo a tre uova sbagliate. Tre uova. Una a una tua. A una. No, tu ne hai già rossato. Come tre, qua l'ho sbagliato. Il ratto era sott'acqua. L'altro, 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 come si chiama? No, no, sono quattro almeno. E' nato il ceratosauro, rinnegan tfrg, osso. Ok, questo è tuo, eh. No, stronzo. Mangia, lascia la seconda. No, non mangia. Ho un pollo? Pollo, no, mangia. Sì, ha mangiato, dai. Ah, sì, ha mangiato. Oh, questo dai. Guarda con il cosguardo, guarda il... Ah, aspetta, vediamo. Vediamo il scientificato. Adesso vediamo, ragazzi, quando schiude il pacificalatosauro, se si picchiano. Oh, Marina, che lo puoi già ordinare? Sì. E dite di star fermo, allora. No. No, metti il free move. Vediamo il free move, così vediamo cosa fa con il pacificalatosauro. 38, 99, attenzione, è nato. Ma che bello che è. Ma che bello, è bellino, giallo. Ma non si... Aspetta, aspetta, dici chi è. Ah, è sempre mio. È sempre tuo, perché è sempre tuo? Scusa, facciamo una cosa intelligente. Prendimi la stecca. C'è la stecca. Allora, fai il follow e lo porti via. Aspetta, intanto tu. Ok, tu devi di star fermo. La mia stecca. Certo, te l'ho già data la stecca. Ce l'hai in inventario. Ok. Adesso, ah, quindi tu adesso praticamente lo puoi già ordinare. Lo faccio follow. Eh, è ancora troppo piccolo. Ah, bisogna dagli da mangiare un po' di... Hai erba, mele. Semi. No, no, dagli tu da mangiare. Semi, mele, quello che hai. Prova adesso. Vedi che adesso, vedi che adesso, che hai dato mele e ti corre dietro. Aspetta. Stay. Follow. Ok, ok, perfetto. Rinegiamo. Verifichiamo un attimo. Spostati. Aspetta. Ok. No, l'altro lascialo pure lì. Ok, l'altro, vedi che ti segui? Vai, vai, vai avanti. Vai avanti. Che non si teleporta quando sei troppo lontano. Vai. Eccolo là. Oh. Perfetto. Vedi, non portarlo? L'idea di erbivori. Però vedi, hanno aggiornato la moda. Perché prima lo facciamo così. Esatto, hanno aggiornato la moda, ragazzi. E lì degli erbivori, aspetta. E erbivori è di qua. Fetto, ragazzi. Siamo arrivati qui degli erbivori. Ci sono teleportati. Ovviamente ci ha teleportato anche la testugine. Ok, perfetto. Lascialo qui. Ok. Digi Stay. Perfetto. Restate che cresca. A proposito, questo qua come è in schermo? Questo qua mi ha chiamato Trichero Gattos. Questo qua è Gianfranco. Questo qui. No, questo qui. Come questo lo chiamiamo? L'Anchirosauro. Oh, lo chiamiamo... Per me lo voglio come è Gianfrancioschio, io. Lo chiamano Gianfrancio... 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 Ok, quello lì è già detto il nome. Gianfrancio... In più, questo qua invece, come lo chiamiamo? Il Paci Fecaloppo... Che c'è? Come Gianfranco? No, io voglio chiamare... Come lo chiamiamo il Paci Fecaloppo Sacco Sauro? Boh. Lo chiamiamo... Boh. Ragazzi, diteci nel commento... Non so, Gianluigi? Eh, buffone. Non so, Roberto... Attenzione, fermali tutti. Pier Silvio. Eh, ma lì, tu che è tuo, e tu questo, vieni a fermarlo. A chi? Chi do a fermarlo? Lui? Perché è questo? C'è mosso? Eh, 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 eh. Anche l'altro? Stay. Ehi, tu, fermo, stay anche tu. E anche il Tricerotoppo. Tricerotoppo, stay, perfetto. Allora lì invece devi dirgli tu. Ok, io devi star fermi. Perfetto, guarda che bello quanti dinosauri che abbiamo. Allora, questo, quello lo chiamiamo Pier Silvio. Quello lo chiamiamo Gianfrancioschio. Sì. Il Ceratosauro, come lo chiamiamo? Quello carnivoro di prima. Il Ceratosauro? No, voi scegliete il nome per il Ceratosauro. Ok. Quindi se vi è piaciuto lasciate tanti mi piacciono, mi raccomando, scusate se ogni volta sbaglio di mettere le uova. Ma non sbaglio. È un odio verso determinati tipi di animali. Il prossimo video con la Scarab Jam, scaraveremo un po' e andremo a calcare l'allosauro. Quello lascio a te. Ok, anche bello. Ciao a tutti e al prossimo video.